Allora, stavo dicendo che sono sempre stato una persona che ha avuto l'ambizione di fare qualcosa in più rispetto a quello che faceva in quel momento, non mi ha mai spaventato il cambiamento, anzi questa è una cosa molto importante che fa parte della mia vita, cambiare quando vedi che vuoi qualcosa di più non mi sono mai tirato indietro, tanto è vero che sono stato una persona, come qualcuno dice, coraggiosa ad aver lasciato un posto statale per poter fare qualcosa di diverso, sì perché in quel momento sentivo che volevo fare qualcosa di nuovo per me stesso, quindi ho accettato la sfida di questo cambiamento e da lì è nata una cosa molto bella, ho creato la mia nuova vita lavorativa e in questa cosa mi sono ritrovato nonostante ci fossero le... Rosario, ti dispiace accennare al lavoro che facevi prima e al lavoro dopo? No, 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 no. E al lavoro dopo? Sì, no, no. E al lavoro dopo sei, no, 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 no... Si, no, 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 no... in me la voglia di fare qualcosa di più, qualcosa di diverso, qualcosa che mi appartenesse, anche perché sì, per il mondo del cielo non voglio studiare il piatto in cui ho mangiato per 21 anni, però io avevo intenzione di fare qualcosa di meno, ero stato sempre affascinato dalla libera professione. E quindi quando ho preso in vita nuove esi la sensazione che era la possibilità di un nuovo settore, all'epoca la liberalizzazione delle poste era appena cominciata, c'era un po' una sofferenza nel mondo delle poste tradizionali, allora ho deciso di cambiare e creare un nuovo soggetto che era appunto la posta alternativa al sistema tradizionale, cosiddette poste private, ma dove le persone potessero fare tutto ciò che facevano in posta ma in un luogo completamente diverso e magari con servizi anche diversi. E lì ho raccolti questa affida, potete immaginare la famiglia, tutti quelli che stavano intorno a me, quante persone gli dicevano, no ma che stai facendo, ma perché l'axi mi ha detto certo per vincere queste cose, ma io avevo sempre questo desiderio di andare avanti e trovare a fare questa cosa e l'ho voluta fare. Ed è andata bene, perché abbiamo creato nel 2009 la nuova posta, è ancora tutt'ora sul mercato italiano e da lì tutte le altre esperienze, poi sempre in questo settore dei multiservizi. Perché ero appassionato dal fatto che ci potesse essere una liberalizzazione e quindi la possibilità di fare cose nuove. Ecco, le cose nuove. Quindi io sono una persona che di fronte alle novità, quando vedo che è una cosa che mi piace, cerco di farla e di farla sempre al meglio. E soprattutto, come dicevo stamattina, quando poi lessi il lavoro ben fatto, riconoscevo anche scherzi proprio a vedere il libro. Questa è una cosa che poi ho letto in molti commenti, quindi questo vuol dire che ricalca un po' ognuno di noi queste persone multipotenziali, come ha mai chiamato appunto Gepis, e questa è un'altra cosa che ho scoperto grazie a lui, la multipotenzialità, quindi quelle persone che quando fanno una cosa la devono fare bene al massimo della potenzialità. e quindi questo è stato il mio percorso e ancora oggi vado avanti su questa strada, ma ci sono tante strade che nel frattempo si sono incasciate e quindi confermo che ho avuto una buona idea e non mi sono assolutamente prendito della scelta fatta. Certo un po' ho abbandonato una delle passioni che erano quella da bambino di fare l'elicotterista, quindi il ruolo, ma quella rimane sempre. Quindi questa è l'esperienza che vuole portare un po' a tutti. Il nostro amico Vito Verrastra qui è un giornalista che tra l'altro è anche il fondatore di una radio web che si chiama Lavoradio, è uno dei fan fondatori del giornalismo costruttivo e insomma quindi lavora su questi temi. Vito ti ha ispirato qualcosa? Mi ha ispirato tanto, anche perché condivido perfettamente. Io non ho avuto un passato da dipendente, ma ho scelto di fare il freelance, libero professionista, senza pentirmi mai, ma quello che ti voglio dire è che hai continuato a volare. Con questa scelta hai continuato a volare forse in maniera anche più senza rete, no? Un po' più sfidante, adrenalinica un po' di prima. Come i travezzisti. Come i travezzisti, esattamente. Con questo che a volte la rete non c'è tutto, però l'abbiamo accettata. Però è stata quella scelta libera che tu hai fatto credo diversi anni fa e che oggi invece notiamo Vincenzo come tendenza, no? Perché la gente lascia il lavoro che fino al pre-Covid non aveva mai messo in discussione per abbandonarlo e fare qualcosa che abbia più senso. Per te è stata quell'operazione? Non è avvenuta con il Covid? C'è stata una scintilla che ha generato questo cambiamento o è stata un'evoluzione naturale? Allora, ti dico due cose. Come sempre amo fare, mi essono sempre responsabilità di quello che dico. Io penso che quando si fa parte di una pubblica amministrazione troppo spesso non si ha il senso del dovere, di quello che si fa. Ci si cura sul fatto che al 27 del mese i soldi arrivano lo stesso. E troppo spesso ci sono persone che galleggiano su questa cosa. A me non piaceva quel tipo di atteggiamento. Non piaceva quell'arrivismo fatto di persone che solo se si nascondevano dietro un grado o qualcosa, si sentivano arrivato. Solo per indossare una divisa, alcune volte si sentivano anche autorizzati a offenderla con la divisa. Perché sapere che ci sono delle persone che ti pagano per fare un determinato lavoro, però comunque c'è che ti dico un difetto nei confronti di che mi pagavano. Pur facendo un lavoro molto importante, ricordo che sono stata una e molte volte a Rampedusa e ho salvato tantissime, perché comunque ero un ero soccorritore. Quella era bellissima. Quella è la parte del mio lavoro che mi manda. Mi stava un po' stretto il fatto della dipendenza da ruolo militare. Ok? Questa cosa di non poter esprimere al marzo. Perché anche se tu eri un'eccellenza, arrivava sempre qualcuno dice, no, ma quello non è compito tu perché tu sei maresciallo. A questo ci devo pensare un ufficiale. Questa è un po' la malattia della pubblica amministrazione. Ripeto, mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico. Se fosse un po' più meritocratica, ma dal vero punto di vista di meritocracia, sarebbe più giusto. Vi faccio solo un esempio. In tutte le parti del mondo dove noi andavamo con gli elicotteri, atterravano, per esempio in Spagna, e c'era sempre un maresciallo, per esempio un vaccuno della, in quel caso della Forza Aerea Spagnola, che loro fuori dal termizio potevano anche intraprendere un'altra attività, se non sono soddisfatti economicamente, qui anche un altro punto di vista della mia scelta. Se non erano soddisfatti economicamente di quello che percepivano, fuori dall'attività lavorativa, senza intaccare l'attività lavorativa, possono scogliere un'altra. Allora, vedete quello che si dice l'altra. Se la vedete, c'è la mia pizzerizia che da spesso, quella magari riportava un'altra parte. Questa è un'altra cosa. Io dico che siamo troppo collegati a dei retaggi culturali troppo antichi, da punto di vista di queste leggi. Anche se oggi devo dire che la professionalizzazione sia nel lavoro di finanza, sia in tutte e in qualche amare dello Stato e nelle forze amare, è elevatissima perché gli allievi sotto ufficiali escono già con una laurea. Questo è bellissimo. C'è la professionalizzazione di settore. L'unica cosa che va in contropendenza con quella della professionalizzazione è l'altro nostro. I stipendi di un dipendente della pubblica amministrazione sono rimasti al 1978 e non sono diseguati al cambiamento in questo caso. E troppo spesso chi sceglie di fare una seconda attività, purtroppo, anche in mero da quella della normativa, lo fa perché forse in una famiglia non ce la fa mantenersi. Io penso che chiunque sia soddisfatto, sia dal punto di vista lavorativo che economico, non cerca un'altra attività. Certo. Uno cerca qualcosa di diverso, un po' come nella vita, perché quello che hai non ti basta. a me è un po' le due cose. Ci stanno domande e curiosità da parte delle altre amiche. No, c'è Patrizio che ti saluta. Ci sta Patrizio Fiscina che ti saluta. Ciao. Ciao Patrizio. Ciao Patrizio. Va bene, va bene. Senti, io direi che ci possiamo anche, diciamo, come dire, ci possiamo anche fermare qui. L'ultima curiosità che ho, anche con te, la prossima sfida lavorativa, naturalmente. Guarda, la prossima sfida non è lavorativa e te la dico subito perché Gervis lo conosce. Io in questo momento, al di là del lavoro, mi sto dedicando a una cosa bellissima e oggi mi dispiace non essere venuto ma devo completare il lavoro per cui mi sto dedicando tantissimo al Cammino di San Niro. A partire che questa grande opportunità che noi abbiamo nel territorio possa diventare veramente un giurismo alternativo, un qualcosa di alternativo. Perché io faccio parte del comitato di tappa di TAPRI e sto realizzando la pietra miliare da mettere sul cammino, con un'iniziativa mia, con una mappa che ho preso tutti gli albergiatori e tutti i risultatori che mi hanno dato un contributo. lo voglio far diventare come il Cammino di San Diablo, se non di più, perché credo che abbiamo una grado fornitare il nostro territorio in questo momento, intravisto questa cosa ed è la mia vera nuova sfida perché lavorativamente parlando adesso sono soddisfatto di quello che sto facendo, sono contento, guadagno bene sulla base dell'impegno che ho messo, però c'è questa nuova sfida ancora più bella che va oltre il guadagno, va oltre vedere questo territorio che ha tante, tante, tante possibilità emergere con qualcosa di nuovo e mi sto dedicando al Cammino di San Diablo. Che meraviglia! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie. Una volta del lavoro, continuo a seguirci, grazie, ciao, ciao, ciao.